Come molti di voi avranno letto sul mio profilo di Instagram, questo è l'ultimo anno che corro per il team Scout Nook Proof e ci tengo a ringraziare davvero tanto Sergio e tutti i componenti del team, dai miei compagni di squadra, ai meccanici, a tutti quelli che ci hanno supportato e mi hanno supportato in questi due fantastici anni. Abbiamo corso tanto, quest'anno un po' meno, però di gare ne abbiamo fatti, di trasferte anche e sono state tutte divertentissime davvero e ci tengo davvero a ringraziarvi tanto e per il mio futuro ho dei bei progetti che non vedo l'ora di farveli vedere uno è proprio l'idea tra la telecamera ma tempo al tempo restate sintonizzati, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e basta per questo video basta parole, ho messo insieme qualche highlight e spero vi piaccia, highlight di questi ultimi due anni e bye, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti! 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 ! ! Grazie a tutti!